adesso siamo in diretta ciao a tutti benvenuti sul mio canale sono mister reset maurizio e oggi sono felice di inaugurare la rubrica tre chiacchiere con con giuppi giuseppe eccoci allora un formato bello spontaneo abbiamo un'idea di alcune cose da toccare però andremo molto a braccio e credo che stia funzionando tutto vedo che siamo su youtube le luci ci sono audio pure quindi inizierei prima cosa ti chiamo giuppi o giuseppe va bene giuppi per gli amici giuppi quindi va bene grazie allora magari iniziamo un attimo con una presentazione lato tuo perché l'idea oggi era e io giuppi rappresentiamo due mondi ciao domenico rappresentiamo due mondi diametralmente opposti se vogliamo lato carriera lavorativo io ho sempre seguito quasi sempre seguito una carriera nel mondo corporate giuppi invece è freelance e quindi l'idea era sentire un attimo la sua storia e poi per alcuni punti confrontarci come punti di vista differenti approcci lato corporate lato freelance prospettive come settiamo dei progetti e insomma vedere un attimo come le nostre vite in quali momenti hanno preso direzioni diverse se non riavvicinate o quello che potrebbe succedere anche in futuro quindi giuppi ti lascio il microfono e raccontaci un attimo di te vado allora dunque io sono appunto come ben detto un freelance ma la storia parte da lontano sono un informatico intanto faccio il programmatore ho fatto l'informatico in realtà ho iniziato a fare l'informatico tanti anni fa dopo le superiori ero già un perito informatico in realtà ho iniziato gli studi di ingegneria informatica ma ho iniziato a lavorare nel mentre per varie vicissitudini già nell'informatica da lì gli studi sono rimasti indietro e sono partito in realtà dal 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 basso ero un operatore informatico su turni che è proprio il primo step lavorativo i rematori proprio i vogatori sì 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 quando mi ricordo avevo 21 anni ero era capodanno era mezzanotte meno 10 io un altro ragazzo di 21 anni guardiamo l'orologio e ci siamo detti ma cosa stiamo facendo comunque è stata una bella scuola e che mi ha spinto in realtà poi a fare un sacco di cose che mi hanno portato dove sono oggi però ero praticamente consulenza per ibm quindi ero molto vicino al mondo corporate e ci sono stato vicino per altre due tre aziende quindi ho cambiato un po di aziende e finché non ho deciso che sarei diventato un programmatore freelance proprio ho deciso questo che avrei lavorato solo da remoto senza diretti superiori a voler a dover dare ciao michele ciao michele e quindi mi sono anche riscritto all'università per spronarmi a fare questo e diciamo intorno poi ai 30 anni tutto questo è maturato quindi portato alla fine gli studi mi sono licenziato mi sono messo in proprio ho trovato qualche lavoro e finché non sono arrivato ad oggi dove faccio appunto il freelance sono un programmatore e ho pochi clienti in realtà adesso perché appunto lavoro in maniera abbastanza un rapporto stabile con alcuni e al momento non tornerei indietro qualche domanda e l'informatica una passione una cosa casuale una scelta saggia per le opportunità di lavoro come è nato come ti sei trovato in realtà è una bella domanda questa perché non lo so nel senso che io non avevo un computer a casa eppure ho deciso che avrei fatto l'informatico alle medie già non avevo il computer a casa adesso sembra che esistevano i computer ma io non ce l'avevo a casa grande simo ciao simona però ho deciso che avrei fatto l'informatico non solo anche bene perché avevo visto dei computer in giro gente che faceva cosetto bello sì mi ispirava tantissimo ho scelto il percorso di studio dei superiori come ragioniere programmatore come ricorda sempre giovanni nostro amico sono un ragioniere ci tiene questa cosa però perché c'era questo indirizzo di programmazione ma non avevo un computer non l'avevo mai usato poi in realtà mi sono trovato molto affine per la logica per le sfide che la programmazione porta insomma in realtà è stato naturale proseguire quindi non so perché l'ho scelto ma sentivo fosse la mia strada lavorativa senza fare troppi calcoli diciamo di sicurezza lavorativa tu di di che anno sei quanti anni hai giusto per capire di che anni stai parlando 86 86 per cui hai ok 35 anni 35 anni quindi sì diciamo un più di 20 anni fa alle medie lavoravo alla fine degli anni 90 hai sì sì all'elementare andavo a casa di un mio amico che aveva un 486 avevamo tanti dischetti per far partire i giochi io non sapevo io giocavo solo però c'era qualcosa che mi che mi attraeva dal mondo il week 20 è uscito quando io ero già alle scuole medie per darti un'idea il 486 per me era già fase universitaria sì 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 perfetto e la parte perché questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito io ho diversi amici che lavorano nel settore informatico ma mi sembra di capire che la vera competenza non viene necessariamente dal percorso di formazione accademico cioè di quello che tu veramente sai e usi vieni dalla tua passione dallo studiare per i fatti tuoi approfondire o te l'hanno veramente cioè tu esci dal dall'istituto superiore a degli esami dicendo oh che figo adesso so fare cose sono combat ready plug and play per per certe attività allora il mondo universitario è sicuramente abbastanza distante dal mondo del lavoro sicuramente e anche da un mondo pratico nel senso che con l'informatica ti puoi trovare tranquillamente da solo e fare tanta pratica e avviare anche progetti che poi possono evolversi quello che che mi è servito molto nell'università ovviamente nella seconda parte di università cioè quando l'ho fatta da pischiello dopo le superiori parte che era ingegneria informatica ingegneria informatica nel triennio ti prepara molto a una mente ingegneristica e quindi informatica è proprio collaterale informatica pura invece l'ho trovata molto interessante per molti esami però c'è l'approccio magari alcune materie può aiutarti ma di base cioè io ho capito dopo che avrei potuto non iscrivermi all'università in questo mio percorso di voglio diventare un programmatore freelance eccetera mi è servito ad avere un approccio magari diverso ma sicuramente l'informatica allora non dico che bastano magari i corsi da 3-6 mesi che adesso vanno tanto di moda che magari l'infarinatura te la danno però può essere un buon modo per avere metodo come tante cose c'è l'università lo sai anche tu ti dà tanto metodo che ti serve in tutto ma serve molto di più mettersi e provare a fare cose poi oggi nell'era di tutorial video cioè tu puoi programmare praticamente in parallelo a qualcun altro guardandone un video è una roba che non ha senso ok ecco questo infatti è una delle cose che credo che inizi a determinare la più grande differenza soprattutto nei primi passaggi della carriera perché ci sono delle posizioni dove il titolo di studio che sia realmente formante o no è determinante no ci sono delle aziende che mettono delle barriere o delle dei parametri d'ingresso e magari se è uscito in università non necessariamente ne sai quanto serve di quella materia però ti serve per superare il primo cancello lato informatico immagino che sia diverso oppure ci sono perché per esempio mi ricordo mister rip Giorgio alcune volte faceva riferimento a questi siti dove uno va e carica dei progetti che fa per condividere quindi diciamo qual è il biglietto da visita effettivo lato informatico Guarda io ti posso raccontare questa cosa che ho visto non in prima persona ma da vicino se tu hai se tu non riesci se tu riesci a dimostrare quello che sei fare il titolo di studio è relativo Se tu invece hai un titolo di studio è anche un'età molto giovane quindi manca solo 25 anni ci sono aziende che proprio con la rete si chiamano la rete tutti quelli che pescono vanno bene senza farti troppe domande Superato una certa età se tu non hai nessuna delle due cose diventa molto difficile puoi essere anche molto bravo ma se non sei in grado di dimostrarlo e si può fare non tutto nel senso quello che dice anche Giorgio mister rip e ti fai un profilo github Fai i siti quel codice che scrivi lo metti lì come prova di quello che sei fare qua parliamo di gente che scrive codice ma non è l'unico mestiere dell'informatica puoi essere un sistemista puoi essere un esperto cyber security ci sono altre altri settori in cui è più difficile ci sono dei modi dei siti in cui puoi farti vedere ma se hai superato una certa età può diventare più difficile però rispetto ad altri settori ci sono questi corsi anche corsi della regione con lo stage il tirocino finale o i corsi che adesso molti sono a pagamento che fanno da ponte col mondo del lavoro proprio in maniera diretta e c'è una domanda talmente elevata in questo momento che comunque cadi quindi però devi fare da qualche parte devi passare sicuramente la laura può servire cioè io ho visto nel momento in cui mi sono laureato mi sono arrivate quasi in automatico delle domande da aziende che cercavano profili junior ma neanche troppo in linea con me però si vede che arrivano delle domande ci sono dei filtri su linkedin quando metti che hai il titolo di studio l'informatica però sono appunto le classiche grandi aziende di consulente cioè diciamo è un settore poi ben preciso però se no i modi ci sono e tu nello spettro informatico di cui parlavi prima di cosa ti occupi qual è la tua specializzazione o la passione sperando che uccidano io ho iniziato nella parte diciamo sistemistica come operatore io ero quello che di notte guardava che i server di fiat in Brasile non si scassassero il disco non si riempisse cioè il primo intervento dell'informatica per molti molte infrastrutture IBM la facevo io e altri con me poi l'evoluzione naturale sarebbe stato appunto il mondo sistemistico quindi gestisco le infrastrutture poi ci sono mille di ramazioni io volevo fare il programmatore perché è più divertente se ti piace la programmazione perché appunto hai sfide logiche hai un approccio di problem solving un po' diverso e in più è un tipo di lavoro che puoi gestirti tu nel senso se devo fare portare a termine un compito lo porto io alle mie condizioni se devo fare intervento quando è da fare da fare quindi ho iniziato a studiare parlamente programmazione per i fatti miei era difficile perché avevo intanto aumentato il RAL di un tot di volte avevo un curriculum avevo anche delle certifiche cioè ero ero indirizzato nella carriera corporate da sistemista fare il passaggio mi è costato tanto tanti soldi tanto livello cioè dovuto ricominciare finché poi da freelance in realtà vale tutto quindi da freelance è saltato poi il banco e sono programmatore al 100% adesso qual'è stata hai detto prima no a un certo punto ho deciso che volevo stare aspetta ti faccio vedere la tazza corporate questa è la tazza che mi ero fatto in dieci anni fa ognuno nel team avevo fatto la tazza io ero boss Maurizio senti e prima hai detto a un certo punto ho deciso che avrei voluto fare il freelance per essere libero a gestirmi le cose qual è stato il momento e qual è il trigger cioè il motivo che ne so un libro sull'indipendenza un film un quale se c'è stato un sì ma no ci sono stati più di uno ma abbastanza cioè li conosco per nome tutti quanti perciò ci ho vissuto per tanto non è che domani mi licenza come ti dicevo comunque io ero nei turni quindi è una situazione molto esasperante quindi se tu già hai dei grilli di libertà e ti trovi la domenica pomeriggio a dover aspettare le dieci per uscire è più facile che quel seme cresca in fretta quindi la situazione lavorativa non mi ha aiutato in più avevo fatto una sorta di carriera interna che paradossalmente mi vincolava lì quindi avevo una gerarchia sopra di me che mi ha palesato tu ormai ci servi lì io avevo studiavo prendevo delle certifiche nel frattempo insieme a dei sistemi insieme a gente che sarebbe diventata mia collega ma il mio ruolo lì non mi era diventato team leader insomma non riuscivo a svincolarmi questi giochi gerarchici che sicuramente non è che sono all'interno di tutte le aziende o del mondo corporate ma in quelle malsane sì ci sono ci sono giochi di potere veramente tristi mi hanno un po da sono stati il primo trigger poi ho scoperto tramite un libro però abbastanza una storia romanzata di un ragazzo che si era licenziato si era messo a fare il programmatore freelance e gli ho scoperto la parola freelance la parola noma digitale cioè lì ho scoperto da zero che esisteva quel mondo quindi dicci anche qual è il libro allora mi ricordo l'autore del ragazzo francesco grandis sulla strada giusta sulla strada sulla strada giusta vedo un libro classico libro autoprodotto classica storia l'ho riletto anche di recente carino però come trigger funziona per chi proprio ha digiuno e vuole una spinta in più e queste cose qua diciamo principalmente sì poi in realtà io ho sempre avuto questa questa voglia qua che appunto nel corporate non so come si sposi anche a scuola siccome finivo magari in fretta le cose poi dopo volevo fare quello che volevo e giustamente gli insegnanti mi hanno sempre detto eh no cioè devi aspettare devi stare zitto oppure fai qualcos'altro ti diamo più compiti questa cosa me la sono portata dietro finché ho detto ok me la tengo non l'affronto va bene così mi metto in proprio diciamo che più o meno la storia è stata quella poi nelle altre aziende in cui sono stato dopo perché dopo essere stato nei turni ho cambiato un po' di aziende in questo diciamo modo anche lì non accettavo le logiche dell'azienda che adesso tu dovrai in qualche modo vendermi nel senso perché devo non lavorare fino alle 18 ho finito non ho nulla da fare non ha senso che io stia qua oppure perché non posso farlo da casa adesso si è un po' sdoganato ma se posso fare una cosa da casa perché non posso farlo da casa avevo queste domande che tutto il giorno mi battevano e non se ne sono più andato adesso tu devi cercare di convincermi del contrario no no bene su molte cose siamo anche allineati e io ho spesso criticato i vari meccanismi che sono anche molto italiani del che fai la mezza giornata quando vai via alle 6 queste sono cavolate che sono veramente soltanto in italia devo dirti e io quando ho iniziato a lavorare uscivo da stiamo parlando degli anni 90 quindi uscivo da ingegneria avevo io mi sono laureato giù a bari e mi ero innamorato di roma per cui avevo deciso di trasferirmi a roma io quello che ho fatto è stato a quei tempi non c'era internet non il lavoro non si cercava così compravi in edicola il career book che era una specie di pagine gialle con tutte le aziende suddivise per categoria e io sparavo il mio curriculum da neolaureato senza arte né parte a tutte le aziende che trovavo possibili immaginabili in in roma e su roma e poi avevo quattro offerte di lavoro sul su bari ma non mi interessava perché volevo venire a roma per cui in realtà non mi sono mai neanche posto il il problema di fare il freelance anche perché tipicamente con ingegneria non è che vai a faccio ci sono quelli che erano interessati alla libera professione perché magari venivano sei famiglie con studi e tutto io quando mi sono iscritto in ingegneria veramente non sapevo moltissimo del mondo dell'ingegneria probabilmente non lo so neanche adesso tant'è vero che il papà di un mio amico del liceo di ingegnere e ogni tanto andavo gli chiedevo ma mi dici la giornata tipo cioè come c'è proprio tutti i svegli che fa perché sto studiando le matrici perché sto facendo questo quindi è tant'è vero che quando ho iniziato a lavorare per darti un'idea e ho iniziato in un ufficio acquisti perché era il periodo della liberalizzazione dei mercati dell'energia e io mi ero specializzato nella parte energetica e e questa azienda una raffineria di petrolio qui a roma e cercava qualcuno all'ufficio acquisti sia per seguire contratti di fornitura di gas era quel tempo il primo era stato liberalizzato e poi anche per le altre cose tecniche e io avevo avuto quello più un'offerta dei talfer decisi di accettare e arrivai il primo giorno tipo cartone animato con la mia valigetta in un posto che il primo primo giorno di lavoro era il 16 agosto perché da pischello completamente inesperto della vita avevo voglia di lavorare subito per cui quando mi dissero qual è il primo giorno di sfaccia vacanza e poi voglio iniziare subito la pensa come ero fuori di testa e e quindi sì sono entrato nel percorso corporate senza senza mai considerare l'opzione perché il freelance soprattutto per certi settori non tanto esiste o meglio ho scoperto dopo che esiste in altre modalità e poi magari approfondiamo un attimo per cui la cosa era o entravi nell'università col dottorato e tutto o entravi in uno studio quindi non potevi aprire subito il tuo studio la libera professione la facevi come dipendente in uno studio oppure entravi in un'azienda che potesse essere uno studio di ingegneria una realtà produttiva di ricerca e quant'altro e per cui per me è iniziato subito il meccanismo del mondo corporate con anche nel mio caso vari passaggi perché alla tua età 35 anni 34 in realtà ho mollato tutto e ho deciso di andare a vivere in inghilterra quindi ho lasciato una posizione da manager sono salito sulla mia motocicletta e sono andato a londra senza lavoro senza niente quindi sono un po di giri e poi ho fatto anche successivamente delle altre cose per cui io non mi ero proposto il problema del fare il freelance perché a non avevo la minima idea di cosa fosse il mondo del lavoro privato figlio di professori padre professore universitario madre professoressa alle alle scuole superiori sorella medico cardiologo quindi zero esperienza in famiglia nella cerchia stretta del come si va in azienda che cosa succede e tutto quindi sì all'inizio non me lo sono posto proprio poi in realtà nelle grandi aziende ho capito e tra l'altro collaboro con freelance però poi magari approfondiamo dopo come dicevo perché le parti contrattualistiche i pro e contro la tua azienda sono abbastanza interessanti e no non ho avuto per tantissimo tempo quell'esigenza che dicevi tu del del poter gestirmi il tempo lavorare da dove volevo perché sono sempre stato legato a delle realtà o di ufficio di siti di produzione per cui pensavo a quei tempi sbagliando che ero giusto era giusto per quel periodo oggi non stiamo parlando di pre internet pre tutto è e per cui non c'era proprio un discorso di altre opzioni o altre altre cose del genere quindi diciamo questa è stata la prima discriminante per prendere una delle sliding doors da una parte o dall'altra una domanda perché una delle cose che mi ha sempre colpito della parte freelance e anche parlando con perché io ho dei colleghi ho avuto anche dei capi che erano stati freelance magari gente che aveva fatto carriera alternando freelance corporate freelance corporate e mi ricordo ian uno dei dei miei capi inglese lui mi diceva sai morizio quando sei freelance la maggior parte del tempo la passi a cercarti il cliente no a cercarti il lavoro e quello obiettivamente è un è un ostacolo non banale una barriera non banale come come si struttura questa parte tu come come ti muovi qual è stato il tuo impatto perché tu quindi sei passato da un lavoro quindi anche con una signora ti mi dicevi che hai fatto vari scatti di posizioni stipendi e tutto a un certo punto hai dato una priorità diversa all'indipendenza e però ovviamente hai fatto un salto non nel vuoto perché comunque competenze network però insomma dire ciao cioè consegnare la lettera di dimissioni ma diciamo che io non ho fatto cioè tornarsi indietro questa cosa la farei diversamente per esempio perché io ho provato poi è vero che mentre lavori tutto più difficile però non ho non avevo entrate nel momento in cui mi sono licenziato ho scelto la strada secondo me sbagliata poi ovviamente l'esigenza era quel che era ovvero messo da parte abbastanza soldi per stare un anno senza stipendio che all'epoca mi è andata bene però ti posso assicurare che dopo aver passato un qualche anno adesso non tanti però qualche anno a risparmiare tutto per avendo questo obiettivo in mente poi ho costruito il mio metodo da che non sperperavo tutto invece sono riuscito finalmente a cumulare dei soldi il primo mese quando il tuo foglio excel non ha più una colonna di entrate e ha solo quel valore che prima aumentava che inizia a scendere è stato veramente brutto cioè il primo mese quando la prima volta che ho aggiornato il mio tutti i miei budget tutte le mie cose lì in quel momento ho provato più paura rispetto a quando mi sono licenziato perché poi quando inizia a controllare tu lo sai bene anche quando inizia a controllare le tue finanze avere cognizione di quello che fai vuoi fare tutto in maniera diciamo e lì ho capito che forse non era stata la migliore delle idee però comunque stessa sensazione a Londra io avevo sei mesi di autonomia poi avrei tranquillamente per se esistenza senza remore sì diciamo che però quello che ha fatto tanto per me è stato che avevo comunque studiato nel frattempo cioè le competenze ce l'avevo cosa ancora più importante avevo fatto network quasi senza volerlo nel senso che avendo cambiato tanti posti di lavoro essendo andato sempre d'accordo con tutti ovviamente non mi sono mai lasciato male nessun posto anche se non era quello che volevo fare ho creato una forte rete di contatti nel mio settore anche se era leggermente diverso ma sempre di informatica parliamo tant'è che il primo lavoro che ho trovato da freelance è stata una mia amica che lavorava legata di bm e ha detto senti io so che tu sei bravo a fare questa cosa perché l'ho aiutata così senza interesse qualche anno prima berresti e tu guarda mi sono licenziato se vuoi apro partita cioè stavo aprendo partita io se vuoi la apro subito ma vengo da freelance perché la mia scelta va bene uguale da lì ho avuto l'occasione dicendo guarda che però io non vengo di persona lì ha avuto qualche remore che vuol dire che non vieni però comunque va bene c'è la rapporto c'era di fiducia fino a quel momento stavo vivendo quella scena quella quello che stavi raccontando prima nel senso cosa so fare quindi avevo questi fogli excel tutte le cose che so fare dei tariffari a chi posso chiedere come pubblicizzarmi che devo fare facevo call con persone a caso che forse quello fa il commerciale per questo software cioè ho brancolato per un qualche un paio di mesi così ed è lì che ho capito avevo sbagliato l'approccio poi in realtà una delle cose che mi ha fatto che mi ha aiutato nella scelta e che facilita molto le cose oggi rispetto a anni fa e che ci sono dei portali in cui tu puoi cercare dei lavori su commissione da freelance ne avevo fatto qualcuno per piccole aziende o privati americani cioè qualcosina avevo fatto di 100 dollari quindi in qualche modo vede mi vedevo un po più artigiano cioè non era più devo trovare a caso ma ci sono dei siti dove è comodissimo cercare è comodissimo crearsi una reputazione quindi avevo qui un po di piani in parallelo no quindi secondo me oggi se uno vuole con l'esperienza perché questo stavo pensando anche no tu hai fatto il design your life è lì quando parlano proprio dei prototipi cioè probabilmente tu adesso faresti crescere una cosa mentre c'è l'altra in parallelo ti dedicheresti un po di tempo per creare un cuscinetto sicuramente sicuramente avrei avviato più lavori così da freelance in parallelo avrei fatto molte delle cose che dice anche giorgio creati una vetrina cioè io adesso programmo in live su youtube non tanto perché cioè prima perché ho visto che mi piace lo faccio chiacchierò da solo ho dato un senso al mio parlare da solo quindi va bene però mi sto costruendo un curriculum live cioè io queste cose avrei potuto farle allora probabilmente magari non proprio così però nel senso poi con l'esperienza si impara quindi tornando indietro cambierei questo e quindi più vetrina online più lavori già magari avviati e e quindi l'approccio nell'informatica poi parlo nell'informatica non è così facile per tutti i settori nell'informatica oggi secondo me è facile se hai abbastanza testa devi avere delle caratteristiche che se vuoi dopo magari parliamo di quali sono le skill da freelance che soft skill magari che servono e sono fondamentali però trovare lavoro e non è più come prima vado in giro per ristoranti a chiedere chi vuole il sito all'informatica nell'inizio 2000 era più o meno quello ma è diventata è diventato ci sono tanti marketplace per freelance è diventata mi creo il mio profilo github e faccio vedere cosa so fare il studio cioè è diventato più facile secondo me è la domanda altissima quindi no questo è è un errore nel quale sono cascato anch'io poi parlerò dopo della mia esperienza quando faccio la parte immobiliare perché vedo che ci sono un paio di domande molto interessanti e becchiamoci guarda voglio leggere la domanda di domenico perché questa domanda ha eh all'interno alcuni punti che sono molto importanti anche per me da chiarire no la domanda è per te però io mi infilo perché voglio dare prima un attimo un'info e poi mi dico cosa ne pensi dici reputi più pesante lo stress dovuto al sottostare a un capo e in generale ricevere ordini o è peggio lo stress dovuto a non avere la certezza di avere uno stipendio a fine mese allora questa vi dico da uomo corporate ma anche con un minimo di esperienza eh imprenditoriale questa è una è il tipico approccio di polarizzazione no cioè il carriera e mondo corporate o chiamiamo azienda freelance eh dove uno è il il libero e l'altro è il parastatale la sicurezza cioè si mette molto facilmente in una matrice a quattro no e tu in questo caso sei il parastatale eh sì parastatale freschetto quanto vorrei io c'ho eh preavviso di licenziamento 24 ore no come eh allora il principio qual è ora rispondo a domenico però poi voglio voglio iniziare perché è è una domanda molto pertinente perché è veramente tipicamente si mette in questa matrice a quattro eh sicurezza dello stipendio in sicurezza dello stipendio dipendenza da un capo in dipendenza dal eh dal capo no e quindi si mette in un estremo dipendo dal capo ma c'ho lo stipendio sicuro nell'altro estremo sono indipendente e devo andare a caccia ogni mattina la gazzella e tutte quelle cose là ora il mio commento su questo è eh chiunque deve sottostare a delle cose che sia un capo una una policy un contratto di di freelance o qualunque cioè non è che immagino giuppi tu vai ah bella quell'azienda mo vado e faccio sto codice nei modi che decido io nei tempi che decido io e costi che decido io comunque quando sei in una realtà che tu stia contribuendo dall'interno dall'esterno automaticamente sei sottoposto a dei vincoli anzi io con la linea di management che sopra di me che aumentando la seniority si assottiglia ho molta più possibilità di confronto di un consulente esterno che soprattutto all'inizio vengono usati come carne da cannone cioè proprio eh sono ore uomo e tra l'altro poi questo volevo anche dopo toccare l'argomento del delle aziende se approcciano il freelance o le con le società di eh contingent labor e l'altro discorso è anche lì la certezza dello stipendio e quello fa anche scopa con quello no cioè a meno che tu non sia dipendente al catasto al comune la pia sì la certezza ce l'hai fin quando c'hai lo stipendio domani c'è una ristrutturazione di 6.000 persone di 300 di quello e quell'altro eh non hai nessuna tutela nel privato effettiva insomma questo è per cui mi piace la domanda di domenico perché eh ha messo in una domanda alcune cose che è molto facile eh usarle per inquadrare determinate situazioni però mh siamo molto 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 lontano dalla dalla realtà e lato mio se dovessi rispondere a questa domanda e mi mi gratifica molto di più il contribuire all'interno di un'organizzazione e con tutti i suoi limiti e i suoi problemi rispetto al dover andare a cercare però volevo sentire un attimo la tua opinione sia sul mio commento di prima che risposta diretta alla alla domanda ma allora rispetto al tuo commento in realtà mi mi trovi d'accordo nel senso che eh io questa visione così polarizzata ce l'avevo cioè nel momento in cui mi sono licenziato per me era finisco di avere dei capi ma da oggi comando io decido io tutto quello che ho scoperto che nel mondo reale assolutamente nulla in realtà quello che ho capito ma soprattutto poi su me stesso e che dipende tutto da te nel senso anche all'interno di un'azienda il livello di eh sudditanza che hai nei confronti del del tuo super diretto superiore dipende molto da come vivi tu le situazioni perché mi sono trovato da freelance soprattutto all'inizio che ricadevo nelle stesse dinamiche cioè io da freelance nessuno poteva dirmi che orari fare proprio da contratto c'è scritto non puoi dirmi gli orari non puoi dirmi nei miei contratti non puoi dirmi gli orari e il luogo di lavoro ma io comunque mi sentivo in colpa nel dire vado un attimo penso a far la spesa no in orario perché comunque avevo lasciato nel senso era una questione mia psicologica questo l'ho capito una volta capito quello la differenza tra essere dipendente freelance nella mia testa si è si è proprio a sottiglia cioè diventato tutto un pochettino più così dinamico nel senso che ovviamente ci sono alcune situazioni dove ci sono delle gerarchie fisse ci sono delle regole assurde ma davvero che non hanno senso oggi soprattutto anche quello smart working che appunto non è semplicemente il te del lavoro ma magari proprio la possibilità di essere più gestiti in autonomia secondo me questi muri un po sono andati appunto via e quindi lo stress di stare sotto a un capo credo dipenda molto da te perché quel capo può essere il cliente se sei un freelance e può essere molto peggio può essere molto peggio perché magari c'è solo lui non capisce niente del tuo lavoro e vuole avere la cosa fatta cioè può essere un disastro e soprattutto io ho lavorato per metà un terzo della mia carriera in varie forme nell'ufficio acquisti e ancora oggi gestisco contratti ragazzi la committente il cliente ha il coltello dalla parte del manico punto cioè ci sono molte aziende che con i freelance i consulenti o i fornitori hanno veramente una cultura che definire aggressiva è un eufemismo cioè devi veramente trovare l'azienda che abbia un modo di un buon modo di porgersi all'interno e all'esterno e con quella possono funzionare le cose perché io mi aspetto giuppi dimmi se sbaglio che le aziende con le quali hai collaborato e ti sei trovato bene probabilmente avevano delle dinamiche sane anche all'interno è difficile che un'azienda tratti a schifo i consulenti è bene e l'organigramma o viceversa per cui sono d'accordo con te molto è come vivi le situazioni e magari avere determinate percezioni non aiuta e soprattutto appunto se l'azienda si comporta in un certo magari è l'azienda sbagliata a meno che non ti stiano strapagando per e non condividi i valori allora lì soffri per il resto si tratta di trovare un attimo un tuo equilibrio una tua cosa perché per me andare a cercare un committente o è immagino che sia veramente difficile si ripeto personalmente io parlo per la mia esperienza da informatico non è così difficile nel momento in cui tu cioè comunque un freelance è un'azienda cioè io mi vivo come ad oggi finalmente mi vivo come un'azienda non sono più il ragazzo che programma e ti fa fattura come mi vedevo più all'inizio questo perché sono più sicuro delle mie competenze poi mi sento sempre un ladro perché non sono niente e sono il peggiore del mondo però quello che c'è quando dopo tanta tanta esperienza dopo aver avuto a che fare con tante aziende diverse e il valore viene riconosciuto ma il valore a 360 gradi io comunque sono disponibile mi inserisco nei team con facilità nel senso non sono un pianta grande insomma quando vedi che comunque la cosa funziona inizia a darti il valore giusto e quindi non valuti più i clienti dicendo devo trovare un cliente ma su quali mie competenze lavoro per creare un valore maggiore e questo paga cioè questo qua mi dà la sicurezza io non ho adesso tornando sempre alla domanda non ho lo stress di non avere la certezza dello stipendio non perché sia sicuro i miei contratti sono stralciabili con una mail però tolto che quello che prima ho messo da parte per un anno per licenziarmi da freelance è la norma se non hai almeno un anno da parte sei un pazzo proprio un pazzo furioso quindi hai una gestione finanziaria molto più attenta io gestisco tutto quello che mi riguarda io ho i soldi delle tasse che potrei sperperare in mille tutto al centesimo poi sono ragioniere come dice giovanni non dimentichiamolo mai e quindi mi piace anche però non ho stress perché lavoro costante sono continuamente alla ricerca di cosa posso migliorare ma anche attività che magari sono non c'entra niente cioè faccio magari tiro su dei siti adesso voglio il mio sito voglio crearlo magari riesco a creare qualcosa che possa generare delle entrate cioè lo vivi lo vivi come un'azienda che diversifica è più difficile ma penso sia uno step successivo quindi non ho più l'ansia di dire se va male questo cliente devo trovarmi un altro ma il quali sono le mie basi che competenze ho cosa ho studiato qualcosa chiede il mercato cosa c'è di nuovo sono aggiornato e ovviamente mi piace quello che faccio quindi lo faccio con entusiasmo e questo poi è la chiave penso per se non ti piace quello che fai da freelance sì sì proprio sulla strada sbagliato guarda questo volevo collegarmi ci sono varie domande e sarà bello rispondere tutte però volevo collegarmi su una cosa secondo me questo è anche collegato al discorso della maturità perché alla fine lo stesso processo c'è anche nel mondo corporate cioè tu quando esci dall'università soprattutto all'inizio i primi lavori vai a caccia di uno stipendio no vai a caccia di un contratto spammi tutte le aziende per trovare opportunità colloqui e tutto poi crescendo fai una cosa che è esattamente quello di cui parlavi tu cioè inizia a capire quali sono le tue competenze come funzioni bene quali sono le cose che per te permettono un buon incastro tra i valori tuoi e quei dell'azienda il tuo modo di lavorare quello che ti richiede l'azienda e magari come tu a un certo punto inizia a selezionare la tipologia di clienti e di commesse che alle quali ti probabilmente proponi lo stesso anche all'interno della stessa azienda o quando si cambia azienda uno crescendo capisce meglio di che misura è fatto come funziona e inizia a rapportarsi ad aziende di un certo tipo con una certa cultura perché appunto hai la schiena più dritta le spalle più larghe maggiore coscienza di quelle che sono le tue capacità e le tue possibilità di portare valore e allora quando vai a fare un colloquio è davvero un colloquio a due cioè io devo convincere te ma anche tu devi convincere me e questo credo venga molto con con l'esperienza e con il con il maturare anche come persona è un punto allora dimmi se vado in successione o se c'è qualche domanda a cui vuoi rispondere prima perché no andiamo in successione questa è bella questa di di fabio no perché a parte che lo vascio mi sembra sì decisamente probabilmente pugliese come nome e quando hai messo su excel e tutte le tue skill cosa sai fare hai sofferto della sindrome da impostore se sì come l'hai superata allora io la sindrome da impostore l'ho scoperta a forse 47 anni quindi è semplicemente dato un nome no no cioè la sindrome da impostore penso sia giusto non superarla ma viverla diversamente nel senso io tutt'oggi ovviamente soprattutto ho a che fare con i programmatori più bravi di me e quindi mi sento sempre più un impostore poi in realtà appunto la vivi diversamente dai il valore a quello che sai fare e sai che devi imparare quindi sei più sereno all'inizio in realtà quella spinta nel nello sbagliare approccio ma dover guadagnare letteralmente il pane con il tuo lavoro con quelle che sono delle skill che magari hai timore di presentare perché non ti senti pronto perché hai studiato da autodidatta eccetera in quel momento non me ne fregava niente cioè lì il famoso fake it till you make it non ce n'era quello ma quello l'ho visto una volta mi arrangio va bene cioè è un modo fatto sicuramente per per spronarsi ripeto è molto rischioso fare come ho fatto io poi all'epoca non avevo né avevo l'affitto ma non avevo il mutuo non c'è neanche adesso però non avevo un mutuo che è un vincolo un po più grosso e non avevo un bambino e il bambino l'ho deciso di avere al primo contratto quindi comunque sano di mente non sono mai stato hai festeggiato il contratto cosa potrà mai andare storto però in generale credo che nella vita buttarsi aiuti proprio non a superare la sindrome dell'impostore perché a me piace l'idea di essere consapevole di non sapere cioè so di non sapere è realmente parte del percorso di maturazione di una persona però viverlo in maniera sana non non ho più paura di non fare le cose perché sono troppo scarso poi magari non sono così scarso semplicemente magari oso un po di più e senza esagerare ovviamente senza esagerare cioè questa cosa secondo me si può vivere anche i colloqui cioè senza arrivare a essere freelance io vedevo un sacco di persone che senza alcuna sindrome da impostore mettevano cose a caso nel curriculum miei colleghi andavano al colloquio poi se era il posto giusto che ti fa le domande reali veniva fuori che magari non sapevano di cosa stava parlando io ho sempre cercato una via di mezzo nel senso non è che faccio il santone scrivo solo quello che ho studiato al cento per cento magari te ne parlo in maniera onesta e non ti dico esperto non so java perché ho fatto un tutorial hello world ma ti metto java perché ho approcciato java con degli applicativi questo è il mio pericolo nel senso è ovvio che devi osare un po di più e questo da freelance magari lo esasperi però sempre con la consapevolezza che effettivamente se non sei non sei niente perché c'è sempre gente più brava c'è gente che questa cosa te la farà pesare quindi cercare di tirare fuori il meglio di se stessi penso sia il modo migliore per affrontare la sindrome dell'impostore che tanto rimane lì per sempre tra l'altro se posso aggiungere non è diverso dal percorso che si fa in azienda perché in azienda comunque ti confronterai quando cambi i colleghi il reparto cambi l'azienda o cambi le responsabilità ti confronti sempre con persone che ne sanno più di te o pensano di saperne più di te hai sempre dubbi perché ripeto a meno che non sei veramente in un'azienda anni 80 la possibilità che tu continui a fare le stesse cose negli anni è estremamente remota cioè comunque ti confronti sempre con cose completamente nuove per cui queste paure queste ma anche il capo che ti vuole proporre o ci sono dei progetti anche lì no l'onestà di dire no guarda che su questo penso di poter portare valore su questo è un challenge con uno stretch accettabile che fa crescere tutti mentre qua faccio danni è meglio evitare questa è una cosa che appunto è identico lo stesso procedimento quello che che vedo di diverso in questo è che quando sei in un'azienda e soprattutto se sei dentro un'azienda comunque cioè non so come sei comunque in un ambiente protetto da questo punto di vista c'è da fare questa cosa non la so fare c'è chi ti dice o mi dai l'aumento o non la faccio cioè comunque segno un ambiente da freelance soprattutto all'inizio è avere un cliente in più o in meno cioè proprio rischia di essere oppure metti che esagero dico che so un linguaggio di formazione che non conosco ma dico che lo so prendo un lavoro questi dicono ok è tuo lì devi portare a casa il risultato non hai colleghi a cui chiedere poi dipende dal lavoro però in molti casi per me è stato così mi ricordo uno dei primi lavori che avevo preso così stand all'onda qualche centinaio di dollari con un cliente americano e non ero proprio così pratico lì ho detto vabbè tanto non mi accetterà mai dopo due secondi fa se lo fai in giornata è tuo wow sì ovviamente lì all'epoca dicevo sia tutto però sono andato abbastanza in panico non avevo nessuno a cui chiedere perché poi in quel momento non conoscevo tanti programmatoni insomma è rischioso poi lì è andata bene ma è puro caso cioè diventa una questione più di vita di morte soprattutto all'inizio dopo ovviamente sai io mai adesso andrei a dire provo a fare quello perché gioco sui miei punti di forza all'inizio magari uno esagera un po di più ma proprio perché magari hai semplicemente paura di rimanere senza senza soldi vedo solo questa cosa un pochettino più drastica nel dover fare queste cose sì diciamo che anche le aziende ti possono portare a determinate prove anche lì di nuovo in base alla cultura aziendale se cambia il management e oppure ci sono delle dinamiche di office politics per le quali tu stai di traverso a qualcuno non ci vuole niente a metterti su progetti complicati ad affrontare quello che io chiamo la kobayashi maru no i test che non si possono non si possono passare per chi ha un po di cultura di star trek però lo stipendio ce l'hai sempre e ma anche la ce l'hai sempre finché ce l'hai cioè puoi essere licenziato ragazzi la gente va a casa a parte che c'hai anche il periodo di prova quando inizi a lavorare ma il discorso dello stipendio ce l'hai sempre non è più a lungo più a lungo più ammortizzatori sociali quello sì ma perché fa parte dello stipendio cioè se tu vedi il solito discorso quello è una delle cose che spesso la gente non considera no quando diciamo io guadagno milleotto vado da freelance ne guadagno millenove sì ma in quei milleotto ci sono anche come dici tu le ammortizzatori le stipulazioni le ferie però io parlo di un discorso di sicurezza cioè se tu mi licenzi io ho due anni di naspi se tu il cliente mi lasci a casa perché sta cosa non la so fare siamo a zero è giusto però l'importante è che cioè non siamo nel pubblico nel senso che purtroppo è ancora così magari cambierà anche nel pubblico non so eh sì vedremo ok allora e e qui ovviamente a seguire eh giustamente domenico dice vabbè ma quindi alla fine della fiera il vantaggio di di essere freelance qual è eh poi c'erano anche un po di rio eh mi sembra ovvio sto scherzando in effetti detta così sembra quasi un inutile sofferenza di buro come ho detto prima non tornerei indietro quindi già questo non in questo momento puoi mai dire mai ovviamente però eh personalmente ehm la differenza che ho nel vivere da freelance rispetto a essere un dipendente che ad oggi potrei essere dipendente smart working full remote cioè alcune cose che cercavo ce l'avrei da dipendente eh parliamoci chiaro è che io da freelance in questo momento ma è una questione mia personale io mi vivo davvero come azienda nel senso che io eh lavoro a 360 gradi sul mio progetto di vita che non è semplicemente il finisco il mio lavoro da programmatore e cerco di essere pagato di più o di lavorare di meno o tutte e due se possibile ma è cerco nuovi progetti cerco cose che mi entusiasmino eh a prescindere da da cosa di cosa si tratta eh non riesco cosa che non riuscivo a fare neanche prima ad abbracciare troppo i progetti aziendali cioè nell'azienda c'è una mission che può essere dell'imprenditore o della testa dell'azienda nel senso da dipendente almeno per come sono fatto io per lavorare con lo stesso entusiasmo dovrei abbracciare quella quella mission cosa che sicuramente non riesco a fare perché evidentemente ho voglia di fare qualcosa di mio non come azienda perché ho anche provato a farlo ma non è forse il mio ma semplicemente il lavorare costantemente su quelle che sono le mie competenze ma a 360 gradi cioè il fatto anche solo di viaggiare non è una questione di dire voglio lavorare guardando il mare perché potrei farlo a dipendente adesso senza avere troppe castagne sul fuoco mi piace l'idea di andare adesso in posti nuovi e magari scoprire nuove opportunità che magari sono tutt'altro mestiere ma non ho più diciamo dei muri mentali per dire io posso anche decidere va bene magari metà del tempo continuo a fare il programmatore l'altra metà potrei dedicarmi a qualcos'altro cioè ho più flestibilità mentale non dico che la dipendente non si possa fare assolutamente ma credo che soprattutto in Italia con molte aziende poi ce n'è di appunto migliori o peggiori è più facile cioè secondo me abbracciare un po' il progetto dell'azienda ma anche proprio una questione di andare a lavorare con intenzione personalmente è una cosa che non sono riuscito a fare non faccio cioè mi trovo anche con belle aziende con bei progetti quelli con cui lavoro sono tutte aziende che ho scelto perché mi ci trovo bene ma non riesco a dire ok assumetemi da adesso faccio questo preferisco dire mi gestisco io le mie fatture i miei contributi rischio quello che c'è da rischiare senza ammortizzatori sociali va bene ma voglio avere io la gestione della mia vita e questo da freelance ce l'ho devo essere sincero sì mi sembra sia molto una logica di perché se vogliamo no quando sei nel mondo corporate quello che dici la mission i valori dell'azienda quando sei nel mondo corporate hanno a che fare soltanto con la tua parte lavorativa e poi tu c'hai il tuo progetto di vita nel tuo caso le due cose si fondono insieme e quindi la scelta in un settore automaticamente impatta di più è molto più collegato cioè quando fai una scelta è una scelta sia il lato lavorativo che il lato vita quando sei nel mondo corporate probabilmente fai per x tempo scelte lavorative per x tempo scelte di vita fatto salvo come dicevi prima che quella che probabilmente la più grande discriminante storica tra un mondo e l'altro che è la mobilità la libertà adesso se vogliamo si sta sottigliando come come differenza con il lavoro smart working home office o qualunque sia la definizione da da considerare quello è un punto io per esempio mi rendo conto che adesso quello è per me una cosa imprescindibile io ormai sono due anni che lavoro quasi esclusivamente da casa adesso proprio esclusivamente 100 per cento e non lo cambierei con niente cioè mi dà una libertà una flessibilità e una possibilità di gestire ottimizzare che a cui non potrei rinunciare adesso sia per motivi personali che anche come efficienza lavorativa devo dire scusa salto solo l'ultimo commento perché mi hai balzato visto che si è attaccato a questa discussione no e il discorso è che io mi sono stufato di dover fare questa cosa nel senso io non voglio staccare non voglio avere un lavoro da cui voler staccare poi capisco che qualunque cosa qualunque anche il lavoro più bello ha bisogno essere diciamo di ricevere delle pause però in generale una cosa che 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 mi pesava da dipendente poi ripeto è proprio dover dire devo staccare dedicarmi ad altro io vorrei il mio obiettivo che non ho raggiunto oggi ma che vorrei raggiungere è dedicarmi sempre a qualcosa a cui voglio dedicarmi e ovvio è un obiettivo ambizioso perché poi volto che questo questa cosa a cui vuoi dedicarti cambia sempre almeno ci sono sempre cose nuove a cui mi piace dedicarmi e ci sta però lavorativamente ho cambiato tanto e avere per esempio tanti clienti mi ha permesso di cambiare più velocemente nell'azienda cambiare cioè puoi cambiare azienda però non è che puoi cambiare ogni sei mesi se no poi il curriculum inizia a diventare sospetto come mi dicevano troppo spesso è sospetto però eh da freelance io ho preso magari in parallelo lavori diversi e ho capito quali mi piaceva di più banalmente ehm è più facile appunto avere un part time cioè avere un lavoro dipendente part time è un casino fare il part time in Italia in Italia sì in Italia sì all'estero è normalissimo eh sì no ma poi ci sono dei limiti anche geografici forse sì sì in Svizzera per darti un'idea è normalissimo avere dal 100 all'80 50 cioè ma proprio pure ti metti per x tempo all'80% e poi torni insomma è quello il problema della cultura lavorativa in Italia Sì sì no infatti con i limiti io li vivo da chi ha lavorato chi conosce il mercato italiano quindi sicuramente anche lo smart working adesso c'è in altri paesi magari c'era già nel senso però anche questa cosa qua cioè per esempio magari piano piano diminuire eh le giornate lavorative sul mio lavoro da programmatore per fare qualcos'altro da freelance è una questione appunto di gestione delle tue finanze delle tue competenze cosa sai fare su quello vuoi investire cioè lo vivo in maniera diversa cioè non ho più quella anche la per esempio non non ho più quella esigenza di ferie che avevo una volta devo staccare queste due settimane perché tutto più perché mi piace ovviamente di più quello che faccio ma ho un equilibrio molto più grande se devo staccare dico non ci sono per tre giorni è ovvio che è ovvio che potevo farlo anche la dipendente venivo pagato nel farlo cioè non è non sto dicendo personalmente ha funzionato molto di più il essere completamente nella gestione di tutto quello che mi riguarda e non è più diventato un lavoro e poi faccio le altre cose speriamo che queste altre cose mi portino un giorno a farle x qua non lo so oppure mi bastino ma il come posso migliorare più gradualmente cioè più velocemente ho possibilità di provare cambiare quindi questo pochino che credo di diverso poi appunto molte cose cambiano però ad oggi è così ecco infatti io credo aspetta mi ricollego anche un attimo al giustamente anche michele dice ma sentendovi parlare ci sono più similitudini che differenze e questo perché come dicevo prima secondo me molto è il maturare lavorativamente come persona cioè il maurizio 27enne e il giuppi 27enne 35enne probabilmente non ha tantissimo da spartire con il papà 35enne e 50enne con carriera interessi un chiaro profilo professionale o di priorità definito quello sicuramente fa parte del crescere una cosa su cui invece non sono d'accordo è il commento di qua fanno un po' su e giù no è di nuovo collegato alla polarizzazione c'è sempre più un discorso di soddisfazione personale nel senso che cioè sì giuppi è soddisfatto del questa tipologia di approccio al lavoro io sono soddisfatto del di quello che mi dà il mondo corporate giusto per non entrare no di nuovo nell'idea del il freelance sti figli dei fiori del 2000 felicissimi liberi con personalità al peccose mentre lo sfigato che sta nel mondo corporate no tutte e due le cose danno soddisfazione ovviamente se così vogliono il sangue comunque qua in chat mi sembra palese non oggi no però il discorso è esattamente quello cioè se dopo x anni giuppi si è posizionato in un contesto di opportunità e stile di lavoro e io in un altro lo abbiamo fatto perché è quello è quello dove ci si trova più a proprio agio e quindi io sarei molto frustrato se dovessi rinunciare a determinate dinamiche determinate opportunità del mondo corporate lo stesso giuppi se dovesse rinunciare e quindi alla fine ci si posiziona si trova quello che è il proprio habitat se vogliamo lavorativo sotto vari aspetti e quindi funziona in quella maniera altrimenti dovremmo pure invertirci i quadranti sulla live ma infatti io penso che di base ci siano tanti punti di contatto semplicemente perché siamo entrambi soddisfatti evidentemente attualmente di quello che facciamo e quindi è normale che viene fuori che le cose non sono così estreme se io se tu magari non fossi un dipendente soddisfatto magari porteresti tutta acqua sul vero sei libero perché sei un freelance le gerarchie nelle aziende fanno schifo se invece sei una persona soddisfatta per esempio le gerarchie io le ho sofferte fisicamente su di me nel senso che non mi hanno permesso magari di fare certe cose ma per cose malsane aziende malsane ma non le ho mai patite cioè il mio capo non era quello a cui non potevo dire le cose anche se magari la gestiva così per me era un'altra persona con un stipendio leggermente diverso e delle responsabilità diverse appunto questa cosa delle gerarchie ma anche lui arriva all'amministratore delegato della grande azienda è un uomo come gli altri che ha delle competenze specifiche nel senso lì poi dipende molto da te da come vivi le cose no no ma anche quello rientriamo no nel nel come si matura cioè io ho vissuto in aziende dove i dirigenti avevano la mensa separata che è follia in altre aziende oppure il famoso ufficio all'angolo con la pianta no come fantozzi che a ogni livello c'hai la poltrona la pianta l'acquario le cose e c'è gente che veramente combatte per il metro quadro in più nella nell'ufficio cosa che nelle aziende un po più serie ovviamente sono completamente perse perché si sta tutti quanti in open space poi nella realtà dice anche l'amministratore delegato in open space sì ma nel senso che lui c'ha tutto il piano e sta lui l'assistente quello della security e quindi sei in open space ma virgolettato se vogliamo però quello è sicuramente un discorso di trovare appunto il proprio equilibrio c'è una domanda tecnica si sono anche un attimo confrontati in chat che è aspetta devo prenderla da qua chiede lorenzo come scegli la tariffa e poi c'è una bozza di risposta da vincenzo differenzi il prezzo se ti capita di avere a che fare con la tecnologia che non conosci anzi no questa è un'altra domanda ecco un tecnicismo magari per chi è si sta approcciando interessato come funziona la parte tariffa cioè ai margini sei tu che ti posizioni una certa fascia e poi io ti racconto magari quello che vedo lato lato corporate allora considera che io arrivando dal mondo della dipendenza per me era era devo trasformare lo stipendio che avevo e quindi erano puri calcoli ero molto legato a quello ed è tra virgolette l'errore principale che si fa quando si ci si mette in proprio capire la tariffa da applicare all'inizio è stato molto difficile perché non avevo alcun riferimento all'epoca e quindi già non conoscendo il mercato diventa più difficile in più non devi devi conoscere poi il sistema fiscale ovviamente perché tu dici un lordo e quanto è di netto e poi adesso c'è con il sistema forfettario è anche più semplice se invece sei in ordinar dovresti capire che costi ha insomma è un po complesso detto questo la tariffa la tariffa si crea poi uno storico quando inizi al primo cliente che ricevi da lì in poi tu poi inizi a sentire le tariffe degli altri inizi ad aumentare quindi bene o male inizi in qualche modo è facile all'inizio dire che ne so guadagnavo voglio guadagnare 1200 euro al mese facciamo finta che me ne serva al doppio sono 2400 euro diviso 20 sono quanto sono 120 euro al giorno 120 euro al giorno la mia tariffa che è un errore ma da qualche parte bisogna iniziare per avere dei numeri sotto mano le aziende vogliono sapere la tariffa giornaliera e spesso la propongono all'estero te la propongono all'estero almeno mi contattano per dei progetti da sei più mesi dicendo la tariffa giornaliera è di x dollari e ovviamente tutto lordo però nel senso poi tu una volta che sai cosa cosa ti entra poi ripeto non vivi più sul devo fare 1200 euro al mese ma devo avere una copertura devo avere un fatturato di questo tipo eccetera eccetera quindi cambia in base a quello quindi in realtà farsi un giro tra i siti di annunci e ce n'è tanti cioè annunci a contratto da freelance soprattutto ovviamente all'estero ce n'è tanti e inseriscono cifre e quindi si può avere un'idea perché se richiedono un profilo senior e tu non sei senior sai che quella cifra la può chiedere un senior poi c'è sempre anche il discorso del uno ci prova c'è sicuramente il discorso di trattativa ma quello come lo facevi come lo facevo con il ral ti offriamo questo io ti chiedo questo non c'è il ral di partenza cioè non ti chiedono quanto guadagni adesso dammi una busta paga ovviamente cioè se ti dico una cifra è quella un paio di siti di esempio anche per dare qualche informazione a chi magari si sta approcciando quali siti consiglieresti di spulciare per ma allora il più famoso di tutti è upwork.com upwork.com che appunto è un sito di lavori da freelance puro freelancing è quello su cui io iniziai tempo fa poi non ci ho mai lavorato troppo in cui praticamente ti crei poi piano piano un profilo ricevi dei feedback classico marketplace di lavoro qua però si può fare un'idea ci si può fare un'idea guardando anche gli altri freelance anche come si presentano a me è stato molto utile per per capire cosa facevano quelli veri quando io non ero nessuno ok in realtà delle tariffe alte cioè si tiene delle percentuali alte però stiamo parlando di questo sito giusto questo qua ok dove vai fai vedi per esempio questo sito che non conosco minimamente essendo io non di questo mondo quindi sì sì questo è proprio puro progetti cioè ci sono sia lavori a contratto che lavori proprio fammi questo e puoi sia navigarlo da azienda che cerca freelance che da freelance vedere le inserzioni perfetto questo è freelance.com non mi ricordo come si chiama che è la stessa cosa insomma qua ci si fa una bella idea ecco è più difficile però è una domanda lato informatico perché io ho avuto molto a che fare con la parte consulenza quindi consulenza ma non allora ci sono i progetti lato corporate soprattutto grandi corporate ci sono i progetti quelli più ampi per i quali tipicamente le grandi aziende hanno dei contratti o delle grandi partnership con l'accentur mckinsey deloitte e via discorrendo e questo è magari il momento in cui c'è un progetto un progetto di ristrutturazione qualcosa di abbastanza lungo e ci si organizza si fa un team poi magari il senso di queste consulenze è tutto quanto da discutere però mi è capitato ovviamente non settore IT quando c'erano delle cose più specifiche quindi invece del settore di consulenza si andava a prendere proprio le contingent labor quindi proprio le ore uomo mi è capitato di dover affrontare questa situazione io come azienda magari ho bisogno di caso concreto qualcuno per strutturare un contratto molto specifico molto verticale allora trovo il mega specialista nel settore persone in gambissima e tutto ma non posso fare un contratto diretto con questa persona come freelance perché perché l'azienda non si può esporre al rischio individuo cioè se io faccio riferimento a un'azienda che si occupa di aggregare freelance nel settore engineering procurement finance e qualt'altro io posso andare all'azienda e dico guarda ho bisogno di questo profilo per queste attività loro mi propongono determinati nomi io faccio le selezioni ne prendo uno due o quelle che sono le risorse qual è il punto che se succede qualcosa io ho un contratto con l'azienda e se la vede l'azienda di sostituire la risorsa questo qualcosa può essere risorsa che non performa o risorsa che magari ha problemi di salute a me è capitato di avere una persona che purtroppo dopo un paio di mesi per un problema di salute è stata sostituita allora se se io avessi come azienda il contratto con l'individuo là è finita no e quindi devo gioco forza per policy per standard o quant'altro passare dal dall'altro dall'altro approccio contrattualistico tu ti sei mai trovato in situazioni del genere dove ti viene detto sì tu ci piaci però devi passare sapendo che ovviamente l'altra azienda ci fa un mark up però vabbè insomma fa parte del gioco quello però questo l'hai visto? allora sì nel senso che in realtà però già collaboravo con questa azienda che poi collaborava spesso con IBM e siccome poi io conoscevo poi ovviamente collaborando ci conoscevo molte persone ed io da buon freelancer ero quello che faceva le cose strane no? cioè tipo c'è una cosa strana che non conosce nessuno ma la vuoi fare tu? poi ovviamente con l'onesto di dire non la conosco ma provo a farla io cioè ovviamente poi me prega cioè io ero proprio il classico pischello che però ovviamente su cose che poi in qualche modo riuscivo a cavarmi e quindi è successo poi che in IBM da un grosso cliente volessero che intervenissi su una cosa che conoscevo che sapevano che io conoscevo perché avevo fatto appunto un'altra cosa sono passati dall'azienda con cui collaboravano proprio perché non potevano prendermi direttamente però non lo so nel senso di andare bene non ci sono stati problemi ovviamente io ho continuato a ricevere tariffe per cui avevo concordato con l'azienda intermediaria quindi non mi è cambiato niente ho seguito questo progetto ad hoc per qualche mese però e queste sono aziende che consiglieresti o cioè ti spiego sempre lato appunto ingegnere project manager persone con determinate skill che sono quasi più skill corporate ci sono queste aziende che offrono magari un set di allora queste come funzionano tu hai un contratto ma non un contratto vincolante con queste aziende cioè tu dici guarda io sono un freelance ho la mia vita se c'è qualche progetto mi chiami questo è come ci si smazza la torta queste sono le regole di ingaggio tra noi se il cliente mi prende bene ma io non ho il contratto di esclusiva con te tu non ce l'hai con me sei giusto una vetrina per i tuoi clienti mentre io ho anche i miei quindi mi è capitato per esempio di gestire progetti nei quali il consulente era disponibile per otto mesi se il progetto si è steso i due o tre mesi abbiamo dovuto trovare qualcun altro perché lui nel frattempo aveva altre attività queste tipi di aziende ci sono anche nel settore informatico e le raccomanderesti oppure no? e si collega se vogliamo anche alla domanda di fammelo trovare ecco qua si collega anche alla domanda di Parsifal sulle strategie che utilizzi per acquisire nuovi clienti allora io premetto che arrivo dal mondo della dipendenza non so se l'ho già detto sì sì infatti calma allora non rinnego nulla eh sia chiaro però meglio ti matura anche con quello allora dunque aspetta aspetta vedete che mi sono già distratto troppo allora sì esistono esistono tantissime sono queste arene di talenti ce n'è una internazionale che guardavo con gli occhi sognanti prima di licenziarmi che prende l'un per cento di talenti mondiali c'ha un processo difficilissimo per entrare e poi sei nel loro team chi sono questi? top tall top tall top tall top 3% scusate non ho ricevuto opinioni quindi non do un'opinione se sia poi realmente un buon posto con cui lavorare no però fanno esattamente quello hanno un loro roster di talenti e hanno uno screening mi sembra abbastanza difficile però probabilmente lo farò il processo solo per curiosità voglio vedere quanto è difficile però non lo so personalmente parlavamo del perché essere freelance se per me un motivo per cui sono freelance è che mi scelgo i progetti per cui lavorare le persone con cui lavorare e sono a più stretto contatto possibile col progetto se lavori con questi intermediari ovviamente sei un pochettino più satellite nel senso che ti approcci al progetto per cui vieni commissionato hai l'intermediario e ci sta per avere può essere un modo per avere una vetrina può essere magari con l'azienda giusta perché ce n'è tante io non ne ho provate ma alcune promettono appunto massima cura dei propri freelance quindi chissà magari davvero tipo dei cavalli immagino che ci pettino a inizio giornata con le spazzole non lo so cosa fanno a questi talenti comunque potrebbe essere però il problema è che cambi spesso progetto molte cose non dipendono da te e siamo appunto a capo nel senso io adesso lavoro in un bel progetto che appunto ho scelto io e non vorrei mollarlo se ci fosse una commessa di mezzo magari dovrei mollarlo e non avrei controllo di questa cosa qua magari non è la fine del mondo però personalmente se è una cosa mi piace non vedo perché debba debba finire no quindi l'intermediario se posso scegliere preferisco non ci sia personalmente e il tipo di attività e di servizio che tu presti è sempre qualcosa che fai da solo o a volte ti devi anche proporre come squadra? no no allora ci sono squadre io lavoro da solo da solo perché fa parte poi della mia scelta nel senso preferisco lavorare da solo perché appunto sto creando cioè lavoro tanto sulle mie competenze lavorare con altre persone vuol dire è più complicato ovviamente io lavoro con altre persone attenzione però muoversi in gruppo vuol dire poi creare cioè l'ho visto succedere crei poi dell'azienda cioè nascono piccole software house che danno servizi direttamente all'azienda e ci sta ed è tra l'altro molto profittevole anche in questo momento personalmente invece io lavoro bene da solo e poi appunto parliamo dell'essere freelance devi essere molto intraprendente cioè ti viene commissionata una cosa la devi fare da solo eccetera però devi essere molto bravo inserirti nei team quello come un dipendente con la differenza che magari arrivi dal nulla magari sei completamente da remoto magari quello adesso c'è un po' ovunque tra l'altro poi volevo chiederti invece nel mondo corporate qualcosa dello smart working io però in generale appunto rischi anche di avere delle barriere cioè tu sei il freelance e ci sono più dipendenti però in realtà io almeno l'ho sempre vissuta così dipende da te nel senso poi queste barriere le puoi sgretolare nel senso io mi sono sempre inserito non ho mai avuto problemi però preferisco appunto farlo da solo perché faccio fatica a badare a me se dovessi pensare di dire siamo un team non ho poi in realtà ho dei freelance con cui lavoro molto spesso e che ho consigliato in altri lavori non la chiamerei ci muoviamo in gruppo ecco però succede succede anche praticamente quanto dura un progetto su cui lavori? no dipende cioè uno cioè nei due progetti grandi a parte quelli piccoli che erano che ne so nascita di un MVP per una start up quindi un paio d'anni di sviluppo sapendo che sarebbe finita con lo sviluppo dell'applicazione o progetti proprio di e-commerce cioè progetti così che sono proprio a termine le due grandi collaborazioni che ho avuto non si sono interrotte una si è interrotta perché l'ho deciso io l'altra è in corso perché in realtà ripeto c'è tanta domanda poca offerta se un'azienda si trova bene cerca di non interrompere il rapporto perché comunque appunto cioè potrei essere un dipendente non è che sì sì no no ma quello ti dico anche da noi ci sono nell'organigramma degli esterni che li consideri letteralmente parte del sì sì quindi non ho non ho avuto interruzioni così a parte appunto i progetti a termine e questo penso che sia anche sia poi quello che appunto dicevo prima nel senso quando ricevi questo tipo di feedback e li ricevi direttamente tu perché stai appunto vivendo con il devo fatturare non ho cuscini eccetera è lì che capisci qual è quali sono le tue i tuoi punti di forza come persona non non parlo solo di competenze tecniche e da freelance sei più portato a sviluppare certi certi aspetti farlo a dipendente è molto più difficile ma lo puoi fare tu ne sei un esempio ovviamente cioè nel senso non è che sei dipendente sei triste e fai giusto il tuo compitino puoi essere intraprendente puoi venire notato puoi essere una persona limpida cioè ovviamente da freelance secondo me ne puoi sbagliare molte di meno perché c'è un cliente se sei una persona scorbutica il cliente dice bello bravo però anche no per dire essere scorbutici è brutto soprattutto quando lavori con le persone no cioè nel senso secondo me è un modo in azienda in azienda ci sono quelli che magari per esempio essere di cattivo umore magari non è essere una persona che mette di cattivo umore gli altri non è abbastanza per essere licenziati e quindi da dipendente uno lo sviluppa più facilmente cioè ho incontrato tante persone molto imbruttite che tanto stavano lì e imbruttivano gli altri e questo penso sia proprio triste molto però vabbè questo si questo commento di Sebastiano si ricollega un po' a quello di cui parlavamo prima no? quando dice progetti con problemi come lo gestisci quando sei da solo perché dici quando sei in azienda un fallimento è un fallimento che sia individuale o di team non è che ci sono sconti poi ovviamente come esterno sei molto più sotto schiaffo contratualisticamente sì no come dicevo appunto sei portato a dare di più cioè ti porti più al limite semplicemente perché hai meno margini di errore non mi è capitato di fallire ma perché appunto magari ho commesso degli errori ma che poi cercavo di aggiustare fa parte dell'avere poi dei buoni rapporti cioè se con un'azienda sei ancora uno e sei fuori c'è qualcosa che non va proprio nel rapporto cioè almeno poi io non è che magari sono stato dietro a questo tipo di rapporti più di tanto quindi se ho sbagliato in qualche modo siamo rientrati comunque come squadra anche se io ero un freelance e ovviamente tra le qualità quasi obbligatorie che non so se prima ho accennato però da freelance devi essere molto molto autodidatta non obbligatoriamente perché poi nei team sicuramente si collabora anche con altri freelance o dipendenti però se una cosa non la sai la devi imparare se non c'è nessuno te la fega tu la devi imparare lo stesso non c'è l'azienda non ti fa il corso magari poi ho avuto anche aziende che mi hanno dato accesso a risorse per dire noi facciamo formazione quindi falla anche tu però devi essere proprio molto intraprendente nel volere studiare lo ero anche da dipendente cioè quello non è cambiato però se vuoi essere un freelance e vuoi avere appunto poi la solidità mentale di dire imparo le cose nuove imparo qualcos'altro per cercare altri clienti devi assolutamente essere in grado di essere il più indipendente possibile nell'imparare nel buttarti nelle cose e avere poi metodo nell'affrontare le cose nuove perché diciamo non sono mai andato allo sbaraglio cioè sono andato allo sbaraglio cose che magari non conoscevo bene ma dicendo ok le faccio da freelance quindi potremmo essere creare un problema grosso ma non andavano allo sbaraglio nel dire provo sta cosa vediamo se funziona e se nessuno si accorge cioè tutte le cose che ho imparato negli anni non si fanno cose che possono distruggere dati bisogna fare tanti test e poi si studi studi tanto studi tanto 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 e altro requisito che ho già detto prima se sei freelance quella cosa ti deve piacere ti deve piacere anche tanto perché se da dipendente poi magari qualcuno dice ok lo faccio non approfondisco troppo e poi quando devo staccare io chiudo e faccio i fatti miei da freelance se devi farti anche la sbatta di dire devo studiare da autodidatta e devo farlo su qualcosa che ti piace se no penso sia impossibile resistere a lungo prima facevi riferimento allo switch quando sei passato da cacciatore di contratti a azienda questa è una domanda che ti volevo fare lato freelance quali sono le skill che ti aspettavi di dover avere e quelle che invece non ti aspettavi minimamente io per esempio racconto spesso che come ingegnere mai avrei pensato che la parte comunicazione fosse così importante nella carriera anche di un se vogliamo tecnico pensavo sempre alla specializzazione verticale invece la specializzazione sui soldi e sulla comunicazione quindi stakeholders management è una delle skill più inattese e più sottostimate necessarie per muoversi bene lato tuo ma lato mio allora dico quali cose diciamo sono diventate inaspettate mi aspettavo di dover essere praticamente un commercialista cioè essere inondato di burocrazia perché poi appunto in Italia abbiamo un po' la la cosa di raccontarcelo sempre che lei è un casino e le tasse cioè imbruttire sempre le situazioni e farle più tragiche di quello che sono in realtà ora io magari come direbbe sempre Giovanni sono un ragioniere e quindi mi viene più facile ma ci si affida al primo commercialista magari online ma anche qualunque quello che capita non è una partita di un professionista non è che sia così complessa soprattutto un professionista che non ha tanti costi o è più che altro prestazione di lavoro quindi è molto più semplice di quello che pensavo da quel punto di vista fai le tue fatture tienile insieme e poi dichiari tutto e più o meno ci sei quindi niente scartoffie da tutte le parti quello che non mi aspettavo ma ovviamente io ero ingenuo e quindi per me era io divento neanche un freelance proprio subito diretto un nomade digitale quindi col mio zaino e il mio portatile sarò in Thailandia sarò a Chiang Mai in un caffè in mezzo alle palme alle scimmie non dovrò più avere a che fare con esseri umani se non per scelta mia che bello faccio solo il mio codice in realtà anche lì più o meno come per te comunicazione rapporti con le persone fare rete andare eventi dal vivo cose che non avevo mai fatto diventano una cosa fondamentale cioè la tua rete diventa in realtà poi appunto è anche un modo da freelance per vivere nel settore no? perché rischi anche di alienarti da un certo punto di vista però in realtà poi ti trovi ad avere la possibilità di entrare a contatto con gente del settore o appunto poi eventi cioè lo puoi fare da dipendente assolutamente però da freelance serve perché appunto devi avere a che fare con le aziende magari ha a che fare direttamente con amministratori delegati cioè mi è capitato di incontrare amministratori delegati da dire ma senti a noi servirebbe uno sviluppatore per fare questa cosa tu sei disponibile cioè se hai un contatto diretto devi essere una persona meno cioè devi essere un pochettino più espansiva io magari aspettavo di potermi ritirare dalle scene della totalità e invece no invece è il contrario però poi diventa anche divertente anche affrontiamo questa cosa dello dello smart working perché dimmi introducilo tu come argomento come lo vuoi allora no perché io io mi sono fatto un mazzo così poi arriva la pandemia e tutti la loro non da casa non è giusto primo secondo io l'avevo detto no allora volevo capire da te perché in realtà cioè tolto che appunto mi sembra veramente il minimo adesso che sia un bene comune questo e che sia un sacro santo diritto per chi può però ci sono due aspetti che mi preoccupano ma questo a prescindere ad essere forse freelance o no e volevo sapere cosa ne pensavi il primo è che ho paura che l'inserimento nei team soprattutto per chi inizia a lavorare da zero possa essere più difficile creare certi rapporti cioè io con tutto quello che ho da dire nei miei primi lavori ho delle esperienze di vita importanti lavorando di persona la seconda cosa è un punto di vista interessante e se quello che vedi magari tu che puoi vedere un'azienda dall'alto magari puoi vedere chi fa un lavoro di di intelletto e può fare smart working e chi non lo può fare se questo non crei poi una spaccatura quasi una lotta di classe no tu puoi lavorare da casa io da ogni e qua non è giusto volevo sapere cosa ne pensavi di queste cose qua allora lo smart working per me è veramente un'evoluzione fondamentale mi dispiace molto che l'Italia sia culturalmente mentalmente impreparata o molto in ritardo torniamo sul discorso del di quello di cui parlavamo prima no la cultura aziendale allora come io ho vissuto lo smart working ovviamente è iniziato con la pandemia però già prima ti poteva capitare che il venerdì rimanevi a casa a farti le riunioni o oggi non mi sento così male da andare in malattia ma non mi va neanche di andare in ufficio allora rimango a casa a lavorare e tutto e poi siccome la maggior parte delle riunioni comunque coinvolgono persone che sono distribuite per tutto il globo quindi che fossi nella sala riunioni o a casa non cambiava assolutamente niente quando è stato strutturato per me è stato un cambio fondamentale allora io ho un'idea molto precisa tutto il mondo dal giorno zero marzo 2020 ha lavorato da casa tolti i lavori fisici ok tolto quello che doveva movimentare i pacchi girare la valvola guidare l'ambulanza e diciamo tutti quelli che hanno un lavoro basato su computer da un giorno all'altro hanno iniziato a farlo da casa ora tolta la che ne so la famiglia che cioè togliamo le contingenze che hanno creato situazioni di crisi tipo da un giorno all'altro famiglie si sono trovate ad avere due figli e due genitori a casa chi cavolo c'aveva quattro computer disponibili o una rete o quattro tavoli no tolto quello tolto e chi magari non era attrezzato e cosa scusami arrivo subito a proposito della gestione famiglia in casa dai siamo con te Giupin eccoci ciao io tolgo solo il micro sì va bene va bene no dicevo tolto il problema della transizione è tutto non è morto nessuno per aver fatto video call per tre mesi ora aziende che hanno trasferito su 500 dipendenti 400 a casa il giorno dopo fatto salvo di nuovo le infrastrutture che reggevano non reggevano i software le riunioni fatte dal bagno tolto quello aziende che hanno chiuso perché la stessa riunione ieri avveniva nella sala riunioni oggi avviene su zoom o su team non credo ci siano per cui io non giustifico quelle aziende che dicono ah no da domani devi tornare a casa è una cavolata pazzesca se tu hai per motivi di legge lavorato per un anno sei mesi ma anche solo un mese completamente in remoto vuol dire che quel lavoro si può fare in remoto quindi fatto salvo perché qua ci sono anche delle implicazioni particolari a livello contrattualistico a livello diritti quindi ci sono tante implicazioni non banali dietro però l'azienda che ti dice devi tornare a lavorare è un'azienda che sta perdendo un treno fondamentale i problemi quali sono ed è il motivo per cui diciamo quattro anni fa se tu volevi lavorare da casa dovevi stare in un'azienda che lo permetteva una persona su cento poteva farlo dovevi avere un portatile aziendale che la maggior parte delle persone non avevano e poi attenzione la postazione a casa deve essere ergonomica per cui io arrivo a casa mi metto sulla sedia storta lavoro sul divano con la luce di lato che mi riflette sullo schermo e poi dopo otto mesi faccio causa all'azienda perché ho problemi di vista di schiena e tutto questo è il motivo per cui nelle aziende prima per lavorare da casa dovevi presentare il certificato di donità degli impianti l'ergonomia come la tua postazione che cosa metti come mobilio insomma tante cose che rendevano la cosa non facile però oggi se tu azienda da un giorno all'altro hai fatto le attività continuando a lavorare con le persone da casa non hai nessuna scusa per dire no da domani dovete tornare in ufficio peggio ancora quelli che dicono almeno tre giorni a settimana cioè o posso lavorare da casa o non posso questa cosa dell'almeno tre giorni a settimana è follia cioè se io posso fare le riunioni da casa ma che vuoi perché tre posso farle e cinque no non ha nessun senso quindi a mio avviso le aziende che non sono capaci di prendere questo treno nel medio lungo periodo la pagheranno perché gli unici che vogliono tornare a casa sono quelli che hanno problemi gli unici che vogliono tornare in ufficio sono quelli che stanno sbroccando a casa brutalmente ora faccio una iper semplificazione chiedovenia però è assolutamente questo il punto cioè io azienda che non sono assolutamente capace di dare obiettivi di gestirli e di verificare che le cose stanno funzionando ho bisogno di averti davanti come un gregge tu sei mio e ti meriti lo stipendio se ti vedo fisicamente alla scrivania follia il mondo sta facendo una grande transizione a mio avviso in questo settore e credo che questa sia una delle più grandi opportunità per chi lavora perché ci sono già tantissime aziende che stanno mettendo posizioni di lavoro in remoto sede che si può scegliere tra città o nazioni e questo permetterà tantissime a tantissime persone di cambiare l'altra domanda e l'altro commento che hai fatto è molto interessante io ho 50 anni lavoro da 24 anni ho 21 anni 23 anni di esperienza in ufficio e ora switcho da casa che per me è stata una svolta assolutamente positiva soprattutto per determinate situazioni personali chi sta entrando ora a mio avviso ci saranno due tipi di generazioni gli ibridi quelli che mi sono fatto due mesi ho a che fare soltanto con persone che hanno vissuto il caffè alla macchinetta e la chiacchiera e quindi è veramente magari una situazione non facile ma chi per esempio inizierà a lavorare tra due anni avrà soltanto questo non avrà neanche l'altro confronto cioè sto pensando a una volta ero in un apple store e c'era questo bimbo che davanti a una rivista cliccava sulle immagini no? cercando di fare lo troll il bimbo ha visto solo quello noi siamo di una generazione di 30 scusa ho visto una gif in cui diceva puoi capire la generazione se chiede a una persona di mimare una fotografia i più anziani faranno così i più giovani faranno così esatto cioè quella sì sì no ma la bellissima cosa di quello che fa vedere il floppy disk è quello che dice ah che bello hai fatto la stampa 3D dell'icona no? cioè è bellissimo però il punto è esattamente quello cioè c'è una generazione che è cresciuta in ufficio e può facilmente o meno fare la transizione sul sul remoto c'è una generazione che avrà soltanto quello quindi le interazioni le gli strumenti aziendali e tutto saranno mi aspetto da qui a molto breve calibrati per la generazione un po' in mezzo ecco loro magari soffriranno perché non saranno né carne né pesce ma a mio avviso è una cosa non non problematica e poi anche lì lavorare in remoto non vuol dire isolamento cioè io vedo molto un non vado in ufficio ma magari c'ho delle altre persone con cui condivido degli ambienti ovvio attenzione occhio alla riservatezza io non posso fare una riunione parlando di business e con una persona che lavora in un'altra azienda e lui sente cioè all'interno di una professionalità considerate che alcune aziende obbligano a staccare eh i tool di google e di amazon da non deve essere presente nella stanza quando ci sono le riunioni o delle riunioni di un certo tipo no per cui io non posso stare in un co-working con persone però posso immaginare un appartamento in cui c'ho tre scrivanie e a questo punto quelli sono i miei amici non i miei colleghi e secondo me lì la qualità schizza alle stelle perché il caffè me lo faccio tra amici che mi sono scelto e non tra persone che sono capitate per per cui lì è molto da da gestire e tra l'altro se vediamo il facility management negli ultimi dieci anni quelle che si chiamano activity based activity based work space sono esattamente questo cioè ci sono da 15-20 anni studi che ti dicono guarda che oggi su otto ore in ufficio tu stai due ore alla scrivania due ore sul divanetto un'ora e mezza la chiacchiera informale sul corridoio e tutto ed è il motivo per cui i nuovi uffici invece di avere le batterie di scrivanie o uffici chiusi hanno le zone di riunioni informali i divanetti puff le zone del caffè hanno i tavolini e tutto perché si vive il lavoro così che non vuol dire che sto parlando di calcio sto parlando di lavoro ma lo faccio al tavolino con la con il caffè lo faccio sul divanetto con il portatile e via discorrendo quindi non prenoto più neanche la sala riunioni ma mi incrocio con i due tre di riferimento ops abbiamo perso giuppi dimmi di no se no facciamo una pessima abbiamo perso giuppi questa è una pessima pubblicità allo smart working e al remoto per cui in attesa che torni per cui sì io sono personalmente molto favorevole a tutto ciò che è opportunità di lavoro in remoto si stanno aprendo opportunità lavorative ci sono aziende che stanno offrendo posti di lavoro completamente in remoto e quindi a mio avviso crea tantissime opportunità ma non soltanto lavorativamente anche a livello di aggiungiamolo questo dicevo che pessima pubblicità lo smart working esatto no per cui stavo chiedendo dicendo appunto si aprono un mondo di possibilità puoi studiare in remoto puoi lavorare in remoto puoi fare attività in remoto e questo abbatte tantissime barriere puoi fare ottimizzazione non devi necessariamente spostarti in città o in luoghi costosi per lavorare con certe aziende non devi necessariamente trasferirti o trasferirti fisso per studiare in certe realtà magari pensa chi voleva fare uno di questi corsi di informatica prima doveva prendere lo zainetto a trasferirsi nella città dove c'è la scuola di informatica con i computer oggi sei a casa e ti fai le stesse identiche cose poi lasciamo stare tutta la la narrativa falsa del lavorare da spiaggia come il fare trend a spiaggia perché ovviamente c'è pure i problemi di connettività di visualizzazione dello schermo e tutto però a mio avviso è un must il poter dare l'opportunità di scegliere il come fare e le aziende che non sono pronte o si prepareranno o la pagheranno e già io vedo in azienda che determinate risorse quindi soprattutto quelli giovani ma non gliene frega niente del campus con 13.000 persone della palestra o delle cose questo vuole poter lavorare dove lui o lei ritiene più opportuno perché esattamente cioè il lavoro può essere fatto nella maggior parte dei casi per certi tipi di lavoro con un computer da qualunque parte del mondo sì no a riesco questo sono molto molto d'accordo ma è quello che io appunto vivevo sulla mia pelle mentre non capivo perché non potevo appunto fare lavorare a casa non potevo gestirmi l'orario se il lavoro veniva svolto e quindi sono contento che ci sia stato questo acceleratore diciamo nella sport abbia un po' portato io un sacco di persone mi ricordo per cui mia sorella tra l'altro che appena iniziata la pandemia appunto bisognava in qualche modo spostarsi e lavorare da casa diceva ma io non posso farlo da casa perché ho tutti i miei documenti in ufficio se dobbiamo parlare cioè proprio ma tantissime persone mi dicevano questo e nessuno di questi è morto ma dopo una settimana io non voglio più tornare in ufficio cioè è una cosa lampante guarda io per esempio io adesso il massimo che mi concedo è la Moleskine io per anni quando mi sono spostato avevo comunque il cabinet con le copie di certi documenti certe cose del cartaceo adesso quello si è completamente azzerato cioè io ho la mia Moleskine su cui sempre meno appunto delle cose relative alle riunioni vorrei arrivare al punto in cui ho tutto quanto sugli strumenti di disponibili aziendali perché appunto ti porti dietro il portatile ed è finita hai tutto quanto lì per rispondere alla domanda di David pensi che si arriverà al cento per cento remoto in Italia no assolutamente no né in Italia né altrove credo che in Italia la percentuale sarà molto più bassa rispetto ad altre nazioni allora stiamo parlando ovviamente del cento per cento dei lavori che possono essere fatti in remoto cioè se io mi occupo di appunto qualcosa che non ha la fisicità ma anche semplicemente è necessaria per legge la firma fisica allora deve essere lì devi essere lì ma se il lavoro può essere fatto in remoto non tutti sceglieranno di farlo in remoto perché magari appunto c'è chi ha bisogno del contatto c'è chi ha bisogno dello scontatto con quello che c'è a casa c'è chi duemila motivi non può o non vuole rimanere a casa però a mio avviso si deve dare l'opportunità di scelta so anche benissimo che mentre per esempio nella mia divisione come dirigente siamo tutti quanti mediamente da casa però parlavo proprio l'altro giorno con una collega e mi dicevano guarda ci sono altre divisioni dove sulla carta si può lavorare però nella realtà il capo non solo ti vuole vedere ma è e anche se sulla carta non dovrebbe succedere però le dinamiche sono quelle non è che puoi andare allo scontro diretto però io personalmente credo fortemente nel 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 lavoro in remoto pieno perché veramente faccio fatica a immaginare attività che non possono essere fatte in remoto dalla firma digitale al condivisione documenti e tutto punto non e io sono per esempio uno di quelli che molto in riunioni usavo i flip chart e tutto perché io sono molto visual quindi moltissimi concetti cerco di allora o ci sono i tool le lavagne però alla fine si è trovato una soluzione per tutto per cui credo fortemente che le aziende o prendono sto treno o prendono un treno nei denti e lo auguro a quelle che non fanno questa transizione lo auguro personalmente a parte che probabilmente ci sarà poi una cioè il mercato si modellerà nel senso che se poi tutti andranno verso aziende che permettono di avere flessibilità è normale che gli altri si adattano o no però tolto che io sono d'accordo che la soluzione non sia 100% remoto ma libertà di scelta perché poi ogni lavoro può richiedere più interazione nel senso molti scappano da casa ma anche semplicemente può essere poi anche se è un bell'ambiente perché no andare anche in ufficio ogni tanto flessibilità secondo me la chiave come però scriveva prima sempre Davids il controllo io ho avuto che fare con delle persone di HR che diciamo sono i rapporti diretti che mi dicevano che un'azienda mi raccontava che il problema di fare smart working era che non si potevano controllare le persone cioè senza giri di parole esatto ma ma e questo è un problema e questo di cui parlavo prima cioè se tu hai bisogno del controllare le persone vuol dire che non sei capace di verificarne l'output vuol dire che non hai nessun controllo cioè tu che mi devi produrre questo algoritmo per se l'hai fatto in spiaggia o nella sala riunioni o al bar l'output è l'algoritmo funzionante se io come azienda non son capace di controllare al di fuori del vederti seduto e sono probabilmente una di quelle aziende dove sono seduto non dico che sto con Gattaca per citare la Marvel ma probabilmente sono di quelli dove le persone non sono necessariamente corpo e mente presenti in ufficio ed è un problema dell'azienda cioè quindi io azienda davanti se se avessi un'azienda su cui ho pieno controllo davanti a un qualcuno che mi dice devo avere le persone per controllarle allora io rivedrei veramente i processi aziendali cioè come mai io ho bisogno cioè il mio unico parametro è la temperatura della sedia dove appoggi il sedere non è possibile e infatti è l'esigenza tipica delle aziende carrozzoni stipendifici e tutto ma guarda però ti posso dire a me è capitato di ricevere appunto questo tipo di osservazione no più pre covid però da aziende anche più snelle più giovani anche funzionanti e anche da manager tutto sommato giovani cioè alcuni casi giovani veramente lascia molto perflessa questa situazione perché è normale che poi rimani indietro rispetto ad altre realtà ti stai focalizzando sui problemi sbagliati evidentemente no esatto guarda ci sono varie implicazioni per esempio vedi il commento di Sebastiano dice io voglio farmi X destra sinistra e tutto ecco lì per esempio bisogna stare attenti perché lì ci sono varie implicazioni allora la prima in positivo è tu pensa il dover andare in giacca o giacca e cravatta in macchina cioè queste sono le cose neanche bisogna parlarne sono dei benefici così scontati cioè per me è la mattina mi devo vestire devo avere un abito non uso più la cravatta però l'abito sì le scarpe se non sono in una città facile devo prendere la macchina spostarmi un'ora andare un'ora tornare cioè qualità impatto sulla qualità della vita devastante io ora posso lavorare da casa io per carità mi metto sempre la polo la camicia e tutto non sono di quelli che si fa con i pantaloncini mutande o flip flop però si può benissimo fare in maniera molto più rilassata e questo ti toglie ti libera tempo ti libera soldi perché una cosa è gestire quattro polo un'altra è gestire gli abiti e sono tutti vantaggi totali poi per carità il discorso del occhio perché se poi cado dalla bicicletta mentre sto in Thailandia e non ho comunicato che ci facevo in Thailandia nella settimana lavorativa che ci facevo in a Madrid la settimana in cui era previsto che io stessi ecco là ora non entriamo in dettaglio però chiaramente ci sono delle anche il motivo per cui il lavoro può essere libero però vincolato a una nazione no perché tu devi stare in una nazione per avere quella contrattualistica insomma tutta una serie di implicazioni per cui libertà sì ma finché non ci sarà un concetto di contratto universale di stipendio ci sono anche dei vincoli necessari perché tu hai le assicurazioni hai le cose ma doveri il perché il per come insomma ci sono delle implicazioni vedete lo lato aziendale non è proprio banalissimo e l'altro invece discorso che sempre Sebastiano solleva se ci fossero anche i colleghi sarebbe scambio di le conoscenze però anche lì sì è verissimo in ufficio tu hai molte più opportunità di scambio tant'è vero che gli uffici delle ultime generazioni ci sono proprio degli studi si fanno tipicamente i palazzi quelli con il vuoto al centro perché è open space perché si è visto che se io riesco a vedere fino a 50 metri di distanza riducono drammaticamente le mail le telefonate è tutto perché ti vedo ti faccio un cenno ci si vede la macchinetta del caffè e si fa la chiacchiera oppure se devo chiarire qualcosa non devo andare a bussare le 30 porte per i 30 uffici ma siamo tutti in open space quindi tutto quello porta a una collaborazione però anche lì vedi nella transizione lui dice c'è maggiore distrazione quando si è passati dagli uffici chiusi ai cubicoli agli open space si pensava che sarebbe aumentata la distrazione in realtà non è così perché poi ci si calibra ci si abitua e adesso si pensa che la distrazione potrebbe essere lo stare a casa e tutto alla fine se si deve lavorare a livello professionale e tutto si trova l'equilibrio è vero diminuiscono ovviamente gli scambi umani ma rientriamo nel discorso di prima opzione scelta tra l'altro io lo vivo quotidianamente cioè così come prima era quello che veniva alla scrivania adesso ti pingano su teams e magari fai la la chiacchierata al volo ovvio non ti puoi abbracciare ma gli scambi e le interazioni non sono particolarmente diminuiti o diminuiti in maniera tale da impattare sulle altre cose è un argomento molto interessante questo è interessante poi è vero che ognuno l'ha vissuta io parlo di chi si è trovato con la pandemia l'ha vissuta in maniera diversa c'è chi l'ha vissuta come un cambiamento positivo chi all'inizio l'ha spaventato chi ne ha approfittato perché poi ovviamente c'è anche sempre chi ne approfitta e ci mancherebbe però io sono d'accordo sul fatto che sia veramente un valore aggiunto ripeto sono per la libertà ma perché sono per la libertà se non lo sono io che sono freelance però la libertà di scelta è fondamentale perché io sono io il primo che organizzo nelle aziende con le aziende in cui collaboro magari dico ragazzi ma quando è che ci vediamo tutti insieme cioè sono io e poi magari sono l'unico freelance però perché è bello condividere con le persone anche la giornata di lavoro intensiva però un'altra cosa molto interessante che secondo me si svilupperà sempre di più e l'hai accennato prima e stanno nascendo tante situazioni strutturate per questa cosa è proprio il lavorare con chi ti pare cioè non è che devi per forza fare smart working da casa essere isolato in un monastero di nuovo fatto salvo noi per esempio abbiamo gli schermi da mettere non ti puoi collegare attenzione agli aeroporti gli schermi quelli che devi stare frontale per vedere per evitare che sei seduto e ha cioè ci sono due mila in situazioni del genere serve ancora di più che ci sia qualcosa di strutturato cioè io magari non mi siedo a qualche parte alcune persone magari non hanno bisogno di postazioni così però io li vedo nascere per freelance tra virgolette ma poi sono molti dipendenti però secondo me è una cosa che molto si svilupperà anche per creare delle occasioni appunto per riunire i colleghi le famose workation quindi vacanze di lavoro si va una settimana si prende ci sono stanno nascendo tante aziende che lo fanno si affitta la villa in Val d'Aosta dove si va a cercare navi da crociera ci sono navi da crociera che lo fanno navi da crociera cioè è una cosa che adesso deve diventare si sdoganerà per fortuna e perché no no soprattutto anche a livello aziendale perché non farlo facciamoci la settimana di lavoro l'azienda organizza e lo fanno lo fanno in molti in posti bellissimi cioè secondo me comunque è un miglioramento e tra l'altro lato aziendale ragazzi gli uffici costano cioè un ufficio a seconda della nazione del servizio e della qualità ma può avere costi che vanno dai 7 mila ai 14 mila dollari a workstation perché devi considerare l'energia la manutenzione la security l'attrezzatura le tutta la parte dei servizi di facility management c'è tantissimo ci sono costi assurdi quindi ci sono le aziende che magari avevano appena investito in uffici e quindi ora hanno il problema di tenerli vuoti ma altre aziende che invece hanno la possibilità e la flessibilità di ridurre e quindi si innescano degli altri meccanismi questo è un punto un po' più tecnico volevo toccare un attimo la domanda un po' indietro di Michele che dice quando prima parlavi del fatto che c'è tantissima domanda ovviamente lui dice è relativa al campo informatico o si estende anche all'ingegneria elettronica rispondo intanto per esperienza diretta ti dico io parlo di informatica perché poi io bazzico anche sempre il mondo del lavoro lo faccio anche per altre persone colleghi dipendenti quindi parlo di informatica in realtà lavoro con un sacco di ingegneri elettronici che fanno programmatori perché poi il confine può essere labile nel senso che ovviamente si può essere esperti di elettronica applicati magari anche alla robotica e quindi poi ci si avvicina all'automatizzazione insomma sono mondi che si toccano per certi versi o semplicemente un sacco di ingegneri elettronici finiscono a fare i programmatori che è anche un caso abbastanza comune ingegneria elettronica può essere vista in tanti modi diversi quindi è un mercato anche bello ampio in generale tutto quello che riguarda la digitalizzazione soprattutto in Italia poi in Italia leggevo stamattina un articolo del fatto che in Italia con il PNRR ci sono tanti progetti molto grossi di digitalizzazione quindi si cercano tanti personaggi che non sono solo informatici sono anche tutto quello che è legato alla creazione di infrastrutture insomma in questo momento essere in questo campo è una fortuna molto molto grande ovviamente lo smart working vuol dire anche non so se ne abbiamo parlato prima vuol dire lavorare anche per aziende di altri paesi vuol dire trasferirsi io ho un sacco di offerti di lavoro che ricevo offrono poi di essere relocati a ricevere sponsor forse servono certi visti insomma ci sono tanti discorsi che uno può affrontare prima magari era che faccio mi trasferisco oppure no adesso è va bene proviamo accetto magari appunto hai solo periodi di trasferimento limitato insomma si aprono tante cose la richiesta di specializzazione io credo che in generale sia alta cioè le persone che hanno competenze non solo nell'informatica ma in generale in tanti settori tra virgolette scarseggiano probabilmente nel senso che o sono già presi sono già sistemati e quindi sono scarsi oppure c'è tanta gente che magari si specializza in cose un pochettino meno pratiche è legittimo per carità però ovviamente nel settore di tutto quello che riguarda l'informatica non è semplicemente programmazione ma è anche l'elettronica nello sviluppo nella costruzione di infrastrutture tutta la parte di rete la rete è un mondo completamente a parte cioè hai competenze completamente diverse per non parlare della cyber security dove entri in discorsi ancora diversi insomma c'è veramente di tanto e la richiesta è tanta un po' ovunque quindi secondo me bisogna la cosa difficile è sempre entrare in certi in certe dinamiche lavorative cioè per me adesso è lampante sia così ma capisco che da fuori soprattutto se non si ha un curriculum ma questo lo sai meglio di me vale quasi quasi per tutto è difficile sia capire che cosa vuole il mercato a meno che non ci si applichi poi le cose vengono fuori è anche difficile farsi notare quindi in realtà volevo rispondere forse c'era una domanda prima e me l'ero vabbè relativa a ti basi solo sul passaparola di Parsifal utilizzi anche ads online poco sopra ecco qua più che ads online se si hanno delle competenze credo che oggi sia veramente importante crearsi quello che possiamo brutalmente chiamare personal brand digitale perché io ho ricevuto delle offerte di lavoro in base a dei video che ho fatto che erano relativi alla blockchain offerte di lavoro relativamente il senso era vuoi unirti a questo progetto visto che tu conosci non so ovviamente poi uno dovrebbe approfondire però quello che dicevamo anche prima crearsi un personal brand online penso sia il modo migliore ad oggi per cercare nuovi clienti perché poi vieni raggiunto direttamente e quindi almeno quello che faccio io è avere una mia vetrina online la sto costruendo non ce l'avevo così forte un'altra cosa che tornassi indietro farei diversamente però crearsi un proprio sito web per esempio perché no avere un profilo linkedin fatto bene curato curarsi la propria rete su linkedin e non mettere comunicazione sbagliata quindi comunicare comunque all'esterno che sei un professionista facendo leva sui tuoi punti di forza è veramente un grandissimo aiuto per trovare clienti ripeto in informatica questo è più facile perché soprattutto tu sei sempre un amatore puoi far vedere fisicamente come lavori cioè io questo è il mio codice che ho scritto io se vuoi fai come me esagiri e ti dici qua ci sono i video in cui ho scritto quel codice quindi non puoi non puoi mentire poi senza arrivare a quello comunque puoi crearti un portfoglio online che non è solo se fai siti web ma anche se se fai altre cose quindi presenza online penso che oggi sia una carta da giocare molto molto importante per trovare clienti ma anche solo per cambiare lavoro e farsi notare le altre aziende perfetto adesso voglio farti un'ultima domanda perché sono volate due ore bella chiacchiera una domanda rapida sì veramente volato devo dire bella live nella tua traiettoria con le nuove condizioni quindi potenzialmente anche il discorso smart working e tutto considereresti una una transizione da freelance a dipendente o sono così tanti i fattori soddisfacenti che preferisci continuare così almeno per ora allora questa sembra la domanda tipo alla fine vuoi tenere il tuo pacco oppure non lo so in realtà sicuramente sono cambiate tante cose molti dei fattori che mi hanno portato qui ad essere freelance sono cambiati nel mondo della dipendenza però più che altro sono cambiato io come dicevamo prima e quindi vivrei forse diversamente determinate situazioni da dipendente detto questo probabilmente questa cosa potrebbe succedere con un'azienda con cui già collaboro cioè comunque prima vuoi riconoscere difficilmente potrei andare da un'azienda a scatola chiusa adesso perché non ne vedo il motivo quindi vedo più facile una situazione in cui in realtà anche perché delle aziende con cui ho collaborato mi hanno proposto l'assunzione arrivata a un certo punto quindi mi sono trovato anche a fare valutazioni poi ho lasciato perdere ma è una cosa che si ripropone di tanto in tanto e personalmente quello che valuterei più di tutto perché il lavoro da remoto penso che bene o male possa darlo per scontato l'autonomia probabilmente la potrei dare come dicevo prima una cosa acquisita da me nel senso ho un'autonomia nel non avere magari determinati sensi del dovere nascosti con l'azienda quello che però dovrei valutare bene è quel problema che abbiamo in Italia è che la volontà dell'azienda è di voler controllare le persone nel senso che nel valutare mi è capitato di fare questa valutazione con un'azienda non è che l'avessi presa proprio tanto in considerazione però avevo un'offerta davanti era molto vantaggioso ho detto fammi valutare valutando il modo in cui venivano trattati i dipendenti ma non male attenzione ma neanche così controllati è una questione di comunque dover sottostare a un regolamento aziendale giusto o sbagliato che sia ma non totalmente in simbiosi con quello che può essere il mio regolamento aziendale ti sta stretto perché ovviamente in questo momento probabilmente mi sta troppo stretto ovviamente secondo me anche questo cambierà secondo me non è solo una questione di dire le aziende faranno lavorare da remoto ma io quello che vedo soprattutto magari in aziende americane è che il rapporto vita lavoro delle persone è sempre più preso in considerazione non è solo una questione di hai il ticket al ristorante per mangiare e quindi almeno io lo spero perché vorrebbe dire che migliorerebbe la vita per un sacco di persone che questo cambi sempre di più in meglio poi non si sa cosa succederà nel frattempo probabilmente io avrò già costruito la mia capanna da qualche parte oppure sarai tu il titolare di un'azienda e avrai i dipendenti farò io un regolamento rigidissimo smart working un giorno a settimana massimo che vuoi dirlo che vuoi dirlo quindi non mi sbilancio troppo ad oggi ti direi che probabilmente va bene così perfetto allora abbiamo passato le due ore e dieci Giuppi davvero ti ringrazio gran bella chiacchierata secondo me ci sono poi delle altre cose tipo il processo di formazione che potremo anche approfondire più avanti grazie mille per il tempo dedicato spero tua moglie non ti picchierà adesso ringraziamo anche tutti quelli che hanno partecipato belle domande fateci sapere nei commenti se ci sono degli altri punti che volete approfondire ho messo in descrizione anche il link del canale di Giuppi che io sono scioccato dalla qualità dei tuoi video hai una capacità di fare video accattivanti con un bel messaggio che ti invidierò sempre i numeri parlano chiaro beh ma quelli arrivano ok grazie mille allora grazie a tutti buona serata ciao